Ciao a tutti ragazzuoli, oggi sarò uno spadaccino in Battlefield, non useremo le armi, andremo solo di spada Facciamo un deathmatch molto semplice Sì, ma non troppo Ok Ok, bene ragazzi lo spadaccino è pronto Ma raga andiamo in giro con la spada No, no, brutti Oh, lo spadaccino Lo spadaccino Sono morto però l'ha ammazzato uno con la spada Con la spada Lo spadaccino è qui raga, lo spadaccino è qui L'ho visto, è entrato nella casa raga Raga l'ho visto T'ho ammazzato, t'ho affettato come un prosciutto cotto T'ho affettato come un prosciutto cotto L'ho visto un'altra raga No, no Ma no, l'avevo visto Perché sono stato così pollo Mio dio ma cos'è sta tempesta Oh mio dio che casino che c'è No, si capisce un tavolo Dai raga però lo spadaccino può essere avantaggiato T'ho affettato T'ho affettato Wario Fire Ne ho ammazzato i quattro e sono morto 18 volte Vabbè, piccoli dettagli Mi stai giocando inizialmente lo sclero Eh, sto gioco Lo dico Ti vengo a prendere Ti sono morto, non mi interessa Però ho affettato un salamino Ho affettato Andiamo in giro ancora ad affettare i salamini Raga l'ho visto T'ho ammazzato con la spada dell'inquisitore Con la spada Con la spada t'ho ammazzato Siamo a sei uccisioni Raga sei uccisioni Con la spada, lo spadaccino In guardia In guardia raga Dovete stare sempre in guardia quando c'è Quando c'è uno spadaccino pazzo in zona L'ho visto No, no Non l'ho ammazzato Ti prego L'hanno ammazzato Ok, allora ma posso uscire Cos'è? Lanterna verde? Vado dietro a lanterna verde Lanterna verde protettiva Aiuto Aiuto Sto ammazzato Dai Sì T'ho ammazzato Vi affetto a tutti come dei salamini appena stagionati Vivi secco Vi affetto a tutti come dei salamini Otto raga sto facendo paura Affettiamoli tutti Ne ho visti tanti Quello Quello è mio Sì Sei mio No Ma vuoi mi arrampicare Che ce n'era uno lì dentro Dai Non mi ha fatto arrampicare Ce n'era uno lì dentro Non avrete mai la mia pelle Io sono lo spadaccino Di Di Arthur Attenzione La situazione sta degenerando Sto beccato Voglio farla Voglio farla Voglio farla Prima di finire la partita No 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 Era mio Fa niente 9 uccisioni ragazzoli Sono stato Un ottimo spadaccino Mi reputo tozzo Bene ragazzi Quindi ho affettato tutti La spada di Arthur ha funzionato Quindi ragazzi Provate anche voi a usare la spada Scrivete qui sotto nei commenti Qual è il vostro top kill Quindi quanti ne avete affettati Di salamini Non dimenticate di lasciare like A 100 like ragazzi Il prossimo episodio Su Butterfield E scrivetemi anche Che arma vorreste vedere Come sfida Sfida dello storto Possibilmente un'arma demenziale Così ci divertiamo un po' Bene ragazzi Quindi condividete anche questo video Con i vostri amici Che giocano a Butterfield A Butterfield Proponeteli questa sfida Anche loro di prendere la spada E vedere quante kill fanno E nulla Quindi per questo video è tutto Ci vediamo come sempre domani Alle ore 15 O alle ore 17 Con un nuovo video Una nuova live Un saluto dal vostro Storto Ma Non troppo Ciao ragazzuoli Storto Anche troppo Scemo Eh si Matto da legare Eh no Si Tu sei da denunciare Adesso non esagerare